Le fa rabbia quando arriva qualcuno che vuole impiantare impianti eolici in prossimità di foreste in prossimità di nuraghi perché fondamentalmente voi siete per l'energia pulita ma per l'energia anche che non deturba. Assolutamente, a me la cosa che in realtà preoccupa non è tanto il fenomeno della transizione energetica che è un percorso che l'Italia si è data e che l'Europa si è data ed è anche legato alla decarbonizzazione che dal punto di vista ambientale è sicuramente un grande passo in avanti. Non dobbiamo però chiaramente cadere nell'errore opposto, non si può pensare che siccome una fonte rinnovabile allora tutto il territorio può essere depredato. Devo dire che in tutti i progetti insomma che più o meno mi capita di vedere perché in questo stesso lato tutte le fasi valutative e tutti i progetti economici vengono come dire esitate in senso positivo o negativo a seconda delle strutture degli uffici e la cosa che a me preoccupa è vedere un movimento di soggetti non attenti a quelle che sono le peculiarità ambientali dell'isola. A discapito anche invece di quei soggetti industriali seri che invece presentano dei progetti, li discutono prima ci fanno capire che sono disposti anche come dire a variarli a seconda di quelle che sono le esigenze del territorio. Ecco oggi si rischia a fronte di progetti anche seri di aprire un dibattito e di fermarci perché chiaramente l'invasione porta a un'opposizione. E questo rischia di essere un grande errore ma è determinato dal fatto che veramente certi soggetti economici stanno presentando dei progetti con dei copie in colla senza neanche come dire informarsi su quelle che sono le caratteristiche morfologiche di un certo territorio. Faccio un esempio che magari quello dei nuraghe di Barumino insomma l'abbiamo già osteggiato abbastanza ma ce n'è uno che è stato presentato da poco su un eurico offshore davanti alle coste di Tuerredda nel sud dell'isola. Ecco un cavo che di fatto tagliava la spiaggia a metà. Allora io mi chiedo se quello è un approccio corretto rispetto a una transizione energetica o se invece è un mero come dire tentativo di occupare degli spazi economici peraltro senza aver nessun risultato perché mi chiedo che futuro possa avere un progetto di quel tipo in un ufficio che comunque è molto attento alle valutazioni di impatto ambientale. Ecco non vorrei che per colpa di alcuni soggetti che invece che fare bene il loro mestiere vanno a occupare spazi di mercato si fermi questo percorso giusto e virtuoso di transizione energetica che però va fatto parte dei territori. Ci sono dei soggetti industriali che lo stanno facendo bene e che lo discutono in maniera puntuale con le comunità interessate. Guardiamo a loro è quello il fenomeno corretto. Tutto il resto va bloccato. Assessore lei prima ha parlato di avere un unico soggetto economico il turismo di fatto potrebbe creare non pochi problemi e ha ragione proprio perché poi viene meno quella fonte e a quel punto nasce una crisi come un'azienda che ha un solo diciamo un solo cliente. È la cosa più assurda che possa capitare. Però ho notato come lei insieme alla Forestas abbia in mente un qualcosa di diverso per la Sardegna. Non solo mare ma ambiente, percorsi che possono portare una forma turistica diversa e soprattutto si possa destagionalizzare il turismo. Cioè la Sardegna può diventare turistica per 12 mesi all'anno, non per 4 mesi come accadeva in passaggio. Diversificare penso che sia la parola più corretta in un mondo naturalmente che guarda a livello europeo, a livello mondiale. L'abbiamo visto con il problema energetico. Dipendere da una sola fonte energetica è sbagliato così come dipendere da una fonte economica che è il sostanzialmente unica e sbagliato. Anche all'interno del turismo la Sardegna deve fare questo passo avanti perché partendo dall'ambiente, insomma, mi piace descriverla come un continente perché veramente dalla montagna al mare la Sardegna ha delle peculiarità che non si trovano così facilmente in altre parti del mondo. È davanti a una regione che oggi per patrimonio boschivo è la seconda regione d'Italia. Peraltro anche con delle foreste di De Maniali e anche prestate dai comuni di particolare pregio naturale e ambientale. Ecco, l'Agenzia Foresta ha avviato un percorso di regolamentazione, insieme anche all'assessore del turismo, di regolamentazione della rete sintidistica che naturalmente apre uno spiraglio molto forte perché sono tutte attività turistiche che vengono svolte nei mesi diversi da quella che oggi è la propensione della Sardegna, cioè quella marittima. Ecco, noi su questo possiamo puntare perché da noi, insomma, i boschi possono essere visitati, devo dirvi la verità, in quasi tutti i mesi dell'anno. È rarissimo che si tocchino punte di freddo particolarmente rilevante, a parte, insomma, magari la fine di gennaio, l'inizio di febbraio che storicamente risentono dei periodi più freddi dell'anno. Noi abbiamo da costruire dei percorsi importanti di destagionalizzazione e quello significa diversificare l'offerta turistica e significa quindi anche richiamare tipologie di turisti diversi e anche perché no, sacche economiche differenti che non fanno mai male per un territorio, insomma, che comunque ha bisogno di crescere dal punto di vista economico e di dare una prospettiva ai tanti giovani e anche meno giovani, insomma, che oggi decidono comunque di restare in Sardegna nonostante le mille difficoltà. La Gran Torre di Torre Grande, borgata marina a pochi chilometri da Oristano, aveva la funzione di proteggere la Prodo in città attraverso la foce del fiume Tirso. Ancora oggi sulla torre è presente un faro funzionante ed aveva la funzione di avvistamento che ha tutt'oggi. Direttore, torri, costa, torri per salvaguardare le zone interne, torri che raccontano perché erano torri di guardia, perché impedivano ai pirati di arrivare dentro la nostra regione. Una storia da raccontare attraverso le torri e oggi voi ne consegnate nove, un lavoro straordinario. Sì, devo dire che è il frutto di un impegno che pur con limitate, come ho detto, risorse economiche e risorse umane, siamo comunque riusciti a portare a termine e credo che agli inizi del 2024 consegneremo ai comuni questo pezzo, come ha detto bene lei, di storia della Sardegna, di un esempio straordinario di luoghi di prevenzione e di pericolo e di incursioni sul nostro territorio. Avevano un sistema di comunicazione tra torre e torre che consentiva alle circa 108 torri della Sardegna di, in un tempo abbastanza breve, di riuscire un po' a circunnavigare la comunicazione e anche le priorità e le emergenze. Noi siamo consapevoli dell'importanza di questo patrimonio culturale e siamo impegnati primariamente a tutelarlo, a preservarlo e a consegnarlo ai più giovani. L'iniziativa della torre multimediale di Chia è un esempio di come possa essere presentata ai più giovani, anche a quelli che oggi sono bambini e saranno in futuro i governanti della Sardegna, per raccontare, testimoniare, migliorare e proporre dei beni che hanno dato anche occasioni rilevanti. Abbiamo proprio nella zona di Chia, a Capomalfattano, alcuni esempi di valorizzazione con finalità turistiche dei fari. Ne abbiamo molti altri in Sardegna, dovrebbero essere oggetto di bandi per la loro attribuzione. A mio parere sono tutte attività che devono essere fatte immediatamente dopo la celebrazione delle elezioni, in maniera da garantire una setticità e una coerenza e un rispetto di questo momento importante di scelta dei nuovi amministratori e quindi ci prepariamo a distruire opportunamente tutti i processi per poi, dopo marzo 2024, farli partire. Antonella, do nuovamente la linea a te e dove ci troviamo? Raccontaci! La Gran Torre apre da nord il meraviglioso Golfo di Oristano. Le zone costiere, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella biodiversità marina, agiscono come barriere naturali contro le tempeste, offrono habitat cruciali per molte specie e sostengono le attività umane, come il turismo e la pesca. Pertanto, la tutela delle coste non riguarda solo la conservazione della natura, ma è anche fondamentale per la sostenibilità delle comunità costiere. L'innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi sono tutti impatti dei cambiamenti climatici che minacciano le coste. La tutela dell'Agenzia della Conservatoria delle Coste include strategie di adattamento per affrontare questi cambiamenti. Ciò comporta non solo il monitoraggio, ma anche la promozione di energie rinnovabili per ridurre le emissioni di gas serra. La ricerca scientifica della Conservatoria delle Coste fornisce una base fondamentale per comprendere meglio gli ecosistemi costieri, le minacce che li colpiscono e le soluzioni possibili. I dati scientifici sono utilizzati per la progettazione delle politiche di conservazione. Grazie a tutti!